Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart e in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla FIPI-Li dove a causa di lavori per la messa in sicurezza del viadotto Ponzano si registrano due chilometri di coda tra Empoli Ovest ed Empoli Est in direzione Firenze. Un chilometro di coda a causa di lavori anche in A15 tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia. Passiamo sulla 1 dove ancora a causa del traffico intenso si segnalano rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico in direzione Bologna. Rallentamenti ma a causa di materiali dispersi in carreggiata anche in direzione Roma tra Calenzano e Firenze Scandicci. Sulla statale 1 Aurelia invece a causa di materiali dispersi in carreggiata rallentamenti tra Venturini e l'allacciamento con la statale 398 via Valdicornia in direzione Roma. Per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!